ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco natrix kit di prelievo natrix srl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali descrizione e caratteristiche avvertenze a cosa serve natrix kit di prelievo è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per raccolta di sangue è commercializzato in italia dall'azienda natrix srl informazioni commerciali titolare natrix srl concessionario natrix srl categoria di appartenenza dispositivi per raccolta di sangue confezioni natrix kit di prelievo kit di prelievo capillare universale descrizione e caratteristiche kit contenente materiale per prelievo ed il trasporto di campioni biologici sangue capillare liquido secco e saliva i campioni biologici raccolti possono essere utilizzati per eseguire vari tipi di test avvertenze non usare oltre la data di scadenza tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere debitamente smaltiti non riutilizzabile l'integrità delle confezioni e dei componenti del kit garantisce la sterilità le confezioni devono essere aperte solo al momento dell'utilizzo non utilizzare se la confezione risulta essere danneggiata prima dell'apertura fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato